Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come La famiglia di Jessica Selassie si sta allargando e lo ha annunciato lei sui suoi social in modo del tutto inaspettato. Jessica Selassie alla fine non è riuscita a conquistare il cuore di Baru, l'uomo che aveva tanto desiderato all'interno del GF VIP 6. Ma in compenso è riuscita a conquistare il cuore di tantissimi italiani, tanto da riuscire anche a vincere il famosissimo reality. Oggi sta vivendo una nuova vita ed anche la sua famiglia si sta allargando. Jessica Selassie, la famiglia si allarga. Jessica Selassie aveva fatto sognare tutti mentre era all'interno della casa più spiata di Italia per la sua possibile storia d'amore con Baru. I due erano apparsi legatissimi e lei non aveva mai nascosto di provare un sentimento per lui che andasse al di là della semplice amicizia. Molto più enigmatico lui, sempre schivo, restiò a manifestazioni pubbliche, riservato. I mesi trascorsi perennemente davanti alle telecamere H24 non lo avevano affatto aiutato a sciogliersi ed anzi lo avevano portato a non voler mostrare nulla della sua vita privata. E poi il dopo, reality, le notizie fugaci su possibili cene di coppia, li unfollo su Instagram, news su possibili liti. Il tutto terminato con la notizia che i fan dei Geruno non avrebbero mai voluto ricevere, Baru ha una nuova fidanzata. E non si tratta di Jessica Selassie, ma di Ludovica Perissinotto, la Miss Italia 29enne abruzzese. Ed anche su questo ci sono state voci su voci, pare che la madre di lei abbia messo di recente diversi like su commenti di haters della più grande delle princese questo non è piaciuto o fatto ai suoi tantissimi fan, che hanno cercato in tutti i modi di difendere la loro beniammina. Tanto che la signora Perissinotto avrebbe tolto i like appena possibile. Ma la vita va avanti, le cose cambiano e di recente poi la principessa ha allargato la famiglia in modo del tutto inaspettato. Il nuovo componente della famiglia Selassie è punto chi è la new entry nella famiglia di Jessica Selassie? Una mucca. Ebbene sì, i fan suoi e di Baru, i cosiddetti e ormai famosissimi Geru, di cui ha ammesso di far parte addirittura Victoria Cabello, la ex storica di lui, avrebbero regalato alla principessa una mucca coffee di Malga Cimaverde. A questo regalo hanno allegato di carta di identità della mucca, che le permetterà di riconoscerlo qualora dovesse andare a vederla. Il tutto pubblicato in una storia su Instagram è comparsa sul profilo di Jessica Selassie, che ha commentato con un semplice crazy. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Ciao.